L'emergenza parcheggi in città diventa sempre più palpabile nei quartieri fuori le mura del centro storico che devono fare conti con la pressione delle auto con il venir meno del buon vivere comune. Accade anche in via De Matteis, traversa le via Montesanto dove i residenti montano la protesta per la sosta selvaggia che avviene spregio anche alle elementari regole del codice della strada. Una battaglia di civiltà che si scontra non solo, non tanto con la chiusura dei parcheggi di Santa Chiara, dal momento che il fenomeno è già preesistente nel quartiere come più volte segnalato dagli abitanti alla polizia locale, soprattutto per l'ingresso e l'uscita del vicino plesso scolastico e nei giorni di mercato. Intanto nella giornata di oggi è stato svolto un ulteriore summit a Palazzo San Francesco, gli uffici comunali nelle prossime ore scioglieranno la riserva sulla spina di pesce in Piazza Garibaldi, ovvero l'incremento dei parcheggi per il periodo natalizio. Il nodo sollevato dagli addetti lavori riguardava la segnaletica orizzontale, tuttavia accorgimenti per andare incontro alle esigenze dei commercianti possono essere adottati. Per il Natale è stata chiesta anche la rimodulazione del mercato con la liberazione di un lato dell'anello della piazza al fine di consentire la circolazione veicolare anche durante la storica fiera.